Ciao amici del Centro Verde, oggi vi voglio parlare di uno strumento per i vostri tagli della legna, a mio avviso veramente eccezionale, l'elettrosega Oregon CS1500, che è l'unica motosega elettrica autoaffilante disponibile sul mercato. È alimentata da un motore da 2400 Oregon ad elevata potenza, è dotata del sistema Power Sharp incorporato, che con un semplice azionamento di questa leva rossa, in meno di 5 secondi affideremo la nostra catena, avendo così i tagli sempre puliti, col minimo sforzo e riducendo i tempi di inattività dovuti a una catena usurata. Il modello CS1500 è dotato di tutte le comodità di una tradizionale sega elettrica, una barra da 45 cm, avvio istantaneo mediante un comodo tasto, sistema di tensionamento della catena senza l'utilizzo di attrezzi e sistema di lubrificazione automatico, tutto questo in 5,5 kg. La manutenzione minima, la scarsa rumorosità, la totale assenza di emissioni e il sistema Power Sharp portano la CS1500 ad essere un'elettrosega che renderà la situazione di taglio veramente comode, piacevoli e a portata di tutti. Per informazioni su questo articolo clicca sul link in descrizione, collegati al nostro sito internet e metti mi piace nella nostra pagina Facebook.